gentili telespettatori buona giornata matteo salvini parla di autonomie a bovolone in provincia di verona e dice porteremo a casa l'autonomia con il prossimo governo di centrodestra perché dire che si fa con pd e 5 stelle sarebbe ottimismo con pd e 5 stelle ci accontentiamo di sbarchi e tasse porteremo a casa l'autonomia con il prossimo governo di centrodestra ma salvini hai chiesto a giorgia meloni che il leader di centrodestra se nel suo programma di governo c'è l'autonomia delle regioni perché bisogna fare i conti anche con il leader del centrodestra che non sei più tu ma è giorgia meloni quindi nel prossimo governo di centrodestra io farò io dirò caro salvini se sarai il leader del centrodestra allora potrai dettare quasi completamente l'agenda ma se sarai il numero due non sarai il capo del governo e lo sarà giorgia meloni lasciatelo dire ma non potrai andare a fare quello che vuoi perché se no un governo così di centrodestra non dura neanche cinque minuti dovrai adeguarti a quelle che sono la quella che è la linea politica di giorgia meloni se giorgia meloni reputerà l'autonomia una cosa necessaria la farà se lei come leader della vera destra dirà che l'autonomia non gli piace vuole tenere accentrate le decisioni al governo centrale di roma e se tu ti opponi a quel punto farete governare il pd e i 5 stelle perché se questi sono i presupposti non si va molto lontano grazie a tutti e arrivederci